12 che stanno per andare agli ordini dello starter con l'uno Jeffrey Giuseppe Franco con il due Donna Summer Trebb Emilio Galiani, il tre Dakota De Long Giuseppe Colantonio, il quattro Dondolo Jet Matteo Zaccherini, il cinque Cannibal Giuseppe Cirillo, il sei Di Bala ZSFZ Ciro Perfetto, il set Diablo di Venere Fabrizio Martinelli, seconda fila l'otto Dijon Group con Giuseppe Buonpane il nove Drogon Run con Lucio Curato 10 Duca del Bar, Ciro Ciccarelli 11 Donner Lunare, Filippo Esposito 12 Colorado B, Gianni Manzone allineamento che va completandosi quando mancano ora poco più di 150 metri allo stacco della macchina un po' discosto Colorado B che poi ora si rifà sotto rinuncia al lancio Diablo di Venere così come Di Bala ZSFZ in questo momento stacca la macchina che vede emergere in lotta Dakota De Long con all'esterno Cannibal, Cannibal che insiste e passa di slancio su Dakota De Long al lancio in 12-9 per Cannibal terza posizione alla corda per l'uno di Jeffrey che costringe all'esterno il 4 di Dondolo Jet poi la scia di Dondolo Jet presa rapidamente da Dijon Group in anticipo su Donner Lunare lungo la corda Drogon Run e ancora Donna Summer Trebb che però prende la via del largo infilata da Diablo di Venere si sposta in seconda ruota anche Colorado B costringendo in terza Duca del Bar ma l'andatura si mantiene decisamente sollecita e solamente ora c'è un parziale rallentamento Dijon Group che punta in terza ruota trascinandosi Donner Lunare e cerca di fare lo stesso dalle retrovie Duca del Bar ma il mezzo miglio iniziale è in 59 e mezzo insiste Dijon Group va al salchi di Cannibal insiste in terza ruota Donner Lunare che figura al lato di Dakota De Long e di Dondolo Jet poi ancora Jeffrey addirittura in quarta ruota è costretto Duca del Bar mentre Cannibal si difende sempre da Dijon Group Dakota De Long che per ora non ha spazio dalla corda poi c'è Jeffrey che sta rimontando all'interno Don Dolo Jet la retta d'arrivo con Cannibal sotto la pressione Dijon Group Dakota De Long che non ha spazio si libera e scatta veloce a largo invece Jeffrey Jeffrey che va all'inseguimento di Cannibal che però ha allungato trascinandosi Dakota De Long Cannibal e Giuseppe Cirillo in chiaro vantaggio vincono davanti a Jeffrey che ha ragione di Dakota De Long per la piazza d'onore e dunque il veloce percorso di testa di Cannibal ha reso impossibile la risalita a chi era in seconda fila favorendo l'inserimento di quelli che l'avevano seguita dal via perché seconda in corda c'era Dakota De Long terzo in corda Jeffrey che poi ha spostato in retta all'esterno di Dijon Group e alla fine ha avuto ragione proprio di Dakota De Long sul mio cronometro io ho 1,58 e mezzo per la vittoria in sicuro percorso di testa di Cannibal intorno all'1,14,1 la media per l'allieva di Catello Savarese mentre Jeffrey di spunto ha ragione di Dakota De Long e allora i numeri sono 5,1,4 scusate 5,1,3 per l'arrivo ufficioso della quinta di Capannello e linea allo studio grazie a tutti grazie a tutti